Perché la comunità degli apostoli, diremmo in senso più ampio dei discepoli, sentì il bisogno di mettere nero sul bianco la propria esperienza. Avete mai tenuto un diario personale? Io da ragazzino del Emo, poi l'ho lasciato, però l'ho ripreso specialmente i primi anni del mio discernimento vocazionale e gli anni, i primi anni del mio cammino dell'ordine, sentivo il bisogno di mettere nero sul bianco. Scrivere è un altro importante perché ti obbliga a fare chiarezza rispetto a quello che credi di credere o credere di vivere. Fare chiarezza. Perché quando tu scrivi, specialmente quando ti rineggi, capisci che quello che hai scritto sono sciocchezze o devi riscrivere, qualora non si capiscono chiaramente. È un altro di sforzo, di disciplina, perché tu possa in qualche modo tenere in maniera più chiara quello che sei meglio. Ma questo è solo un aspetto del perché gli apostoli, la comunità, redige i riconti che hanno Gesù. Perché il secondo aspetto, forse anche quello più significativo, è perché coloro che avrebbero letto e quindi noi questa mattina avrebbero dovuto ricevere la vita piena. Pensate che tipo di consapevolezza ha la comunità. Noi non siamo qui perché così ci leghiamo il pensiero di essere di domenica messa. Sarebbe molto riduttiva e poi anche questa. Noi siamo qui perché convocati. Dobbiamo riattivare quella fede perché questo ci permette di essere i vitali di più perché tra poco dovete uscire da qua. E dovete ritornare con ognuno nel proprio campo di battaglia con presso vento. Quindi in questo campo di battaglia o ci vai da vivente o ritorni a essere colui che con una morte dentro porta a morte dove va. E noi non vorremmo essere tra questi. Come si fa a portare morte? Io ieri pomeriggio ho visto un'esperienza ancora una volta significativa e stamattina cercate di riformulare scrivendo alcune note. Come si fa a portare morte nella vita degli altri? Basta una parola detta male e rovini la giornata di una persona. Perché? Perché tu in quel momento sei talmente preso dal tuo diritto che è come se non potessi farne a me. Non so se vi è mai capitato. E allora perché vengono in celebrazione? Per disintossicarci. Per cercare di devorre tutte le altre. Si fa da l'anca natale. A cominciare dalla lingua. Dunque questa comunità che deve dare grandissima le alza otto giorni dopo è chiusa. Pensate. È chiusa nel cenacolo per colpa dei propri fratelli. Avete mai avuto un paura dei propri fratelli? Può succedere. Anche perché le migliori idee bruci arrivano proprio dalla propria famiglia spesso. E qui dovrei, mi trovo, dovrei fronteggiare situazioni che forse non è anche immaginabili. In realtà la scrittura ci ricorda che nella famiglia che si consumano i migliori delitti. A cominciare da che io mi appena. Quindi niente scaldano di materia. È bella la parola perché? Diciamo che è talmente vera, che è brutale a volte. L'ha chiuso nel cenacolo per colpa dei giudei. curioso. Il sepolcro è aperto e il cenacolo è chiuso. Il sepolcro è vuoto perché la vita trionfa dentro il luglio. Lì che è pieno, ma è pieno di paura o di gente paurosa. ancora una volta, strano. Eppure già, Maria rimandava. È da qualche ora che non fa altro che fracassare la testa a questi giuzzi. Stando al bagno di Giovanni, Maria è messa che parla almeno da tre ore. Direi ancora di più perché quella mattina, Maria è la prima ad incontrare il risotto. E dal risotto viene inviata. Devi andare adesso al cenacolo. Si infila nel cenacolo e comincia, come sanno usare le donne, a raccontare quello che hanno visto. O meglio, quello che ha visto. Eppure questa comunità è bloccata. Anche questo. Sapete quante volte la testimonianza di un altro può non essere determinante? Per quanto sia importante, ma non determinante. Perché che cos'è che è determinante? Per la tua vita, per la mia vita. Che il luglio riempaia. E riempaia per te. Non così in generale. In generale, alla fine, nessuno si salva. Se ha mai in generale. L'amore sempre personale e fisico. A tal punto che Gesù aggancia Tommaso e gli dice toccami. Stramo questa cosa perché la Maria di Nati da Daniela da dentro non ci devi toccarsi. Gesù ha dei criteri assolutamente personali con i quali si relaziona ai suoi. Perché? Perché li conosce. E conosce il modo in cui recuperare tutti e ciascuno. Dopo queste volte chiusi e Tommaso giustamente nel primo momento c'è. Vede la comunità che è ancora chiusa nonostante Gesù sia già fatto. Non so se avete notato questa sottolineatura. 8 giorni dopo e Tommaso era di nuovo con loro. La comunità è ancora chiusa. Quindi hanno esperienze. Ma queste esperienze devono lungere un trauma. La croce ha portato una grossa ombra nella vita di queste persone. Di più. Quindi la croce tiene anche dietro l'eco del dictat di Erode in ordine al massacro di tutti coloro che sarebbero appartenuti al Cristo. Così come il mondo non lo amano è, il mondo non lo amerà poi. A nostra cosa non ci piace neanche a me. Non essere amati dal mondo. Perché noi individuiamo tutti, vabbè qua diciamo l'età un po' più altina, ma diciamo il mondo attualmente mille di social media. Tutti alla ricerca di essere riconosciuti. Andy Buono una degli anni 50 riguarda dire questo straordinario artista che è 70 anni fa, pensate. Ci sarà un momento in cui venderemo l'aria al diabolo pur di avere da sotto da qualche parte che qualcuno guarda. Erode che ha stabilito la morte di tutti, la croce che c'entra quest'ombra. Eppure, altra nota interessantissima che ho avviso. In quel cenacolo, secondo l'intreggio margenico, c'è una donna più importante di Maria di Magna. Vi ricordate che Giovanni ha dentro alla madre? Questo è il tuo figlio. Giovanni l'ha presa con sé. Quindi vuol dire che lei è bella. Che cosa sta facendo? Avrebbe potuto, per esempio, di nuovo raccontare che cosa è capace di fare la potenza di Dio attraverso la sua ombra. Luca lo dice, perché voi capito, la sua ombra ti coprirà e tu diventerai la beata tra i beati. C'è questa presa di Dio che sembra lo figurare, ha fatto risaltare questa donna. Sapete che in arte si dice che la tecnica, grazie all'intreggio, è l'espediente unico che permette di creare volgi, in altre parole, di far uscire fuori la figura, grazie all'ombra. Dunque, c'è quest'ombra della croce, ma la comunità ancora non è, quest'ombra non riesce a farla riesaltare. Maria in là forse in realtà non dice niente, Giovanni non sottolinea questa cosa. La sua presenza è importante, ma potrebbe essere come questa statua qui in San Domenico. bella ma fura decolo. Un dramma. Bella ma fura decolo significa che a un certo punto la diamo ridotta a Spellentine. Dovrà intervenire in Gesù Chiaramente. E questo per noi è straordinario, anche questa mattina. La sua voce infrange i muri. Entra e porta pace. Pace a voi, per tre volte, in una comunità intimorita, la pace a questo dono, grazie al quale tu cosa fai? Ti siedi e respiri a pieni colmori. Io gli ho dovuto fare degli esercizi di respirazione per riprendermi dalle cinque ore che sono stato accamparata. Esercizi di respirazione per cercare di anche leggevolare la pace in me. E a un certo punto cosa succede? Una volta che tu sei nella pace, la condizio, l'habitat, direbbe con Martavino, l'habitat, cioè il luogo, grazie al quale tu, comincia ad intendere. Maria è Gesù Chiesua, la madre, la dimensione. A un certo punto, in questo luogo di grazia, ti arriva l'indicazione. Qual è l'indicazione che hai da Gesù? Dalla pace e dall'indicazione. Dovete andare a fare quello che io ho fatto. Che cosa fa Gesù? E' là che ho ricordato l'essenza del cristianesimo. L'essenza del cristianesimo non sono le celebrazioni, le processioni, né i dati di biologia, né opere d'arte che sarà ordinaria. L'essenza del cristianesimo è ricevere il perdono e dare il perdono. Questa è l'essenza del cristianesimo. Come si fa? Si fa in uno spirito che li scegna. Gesù mostrerà delle ferite. Perché sappiatelo, non lo devo dire a voi, che amare significa lasciarsi ferire. Essere feriti o portare ferite. E' anche questo l'amore. Ma Gesù mostrerà questi luoghi come la realtà più ultima attraverso la quale Dio si rivela. Questa è una cosa complicatissima. Che se no aiuti in me e poi il luogo in cui esplende alla massima potenza la sua divina. Questo santo pure brindante di noi. Divinizzato. E invitano a tenere a rimanere discepoli. Di lì in poi dovranno essere come Tommaso. Capaci di ripetere come il professore. Mio Signore e mio Dio. Tommaso lo riconosce finalmente. Non c'è bastata la comunità. Non c'è bastata la irinandana. C'è bastato qualcuno che torna a sé nella sua vita. Tommaso di fondo ci racconta che tutti quanti siamo come lui. Un po' come lui. Se lui non torna noi non riprenderemo quell'entusiasta o quel sorriso fondamentale. Perché la nostra vita torna a essere piena. E il mondo abbia un dolo in più. C'è uno che crede con la prima vita. E chissà perché. O perché no. Passato come Pietro. La propria ombra possa guarire una propiettiva. Amen. Grazie a tutti.